Ciao a tutti, siamo qui con Peppe Logria, ci rivediamo fra quanti giorni con la nostra processione storica? Il 27 marzo alle ore 19.30 ci troveremo tutti nell'istituto tecnico nautico Nino Bixion per dare ancora una volta luce a questa rappresentazione storica 84 a Città di Piano di Sorrento giunta alla 39esima edizione. Ne voglio approfittare per fare un ringraziamento particolare al Comune di Piano di Sorrento che ancora una volta ci è stato vicino, ai numerosissimi sponsor tra i quali anche voi di Positano News che ci siete sempre stati vicini, non soltanto come informazione ma anche col cuore e con la passione tanto è vero caro direttore che lei partecipa anche. Poi voglio semplicemente svelare alcuni particolari importanti, quest'anno in Piazza Cota ci sarà una scenografia completamente diversa, di grande impatto, infatti abbiamo contattato uno scenografo di Napoli che verrà lì e farà una bellissima scenografia per dare più effetto quando noi entreremo in Piazza Cota. Quindi sarà di un grosso impatto mediano. Nel modo più assoluto, come sempre ci ritroveremo dopo la partenza tutti a Villafondi dove avremo modo di poter apprezzare, ammirare i quadri viventi sia per quanto concerne il primo Gesù nell'orto degli Ulivi, sia l'altro Gesù che è impegnato nell'ultima cena, la Ponzio Pilato con tutti i soldati, il popolo, la corte di Erode. Quindi sarà sicuramente molto interessante, molto più curata perché giunte alla 39esima edizione è importante dare ogni anno dei miglioramenti nel modo più assoluto. Grazie, grazie Peppe. Grazie sempre a voi. Nella prossima puntata svileremo gli altri retroscena. Grazie. Grazie di cuore a voi, di Positano News.